Effettuata ieri mattina presso il fiume Testene la pulizia straordinaria dai rifiuti abbandonati, anche quest'anno in collaborazione con la Sarim abbiamo provveduto a ripulire le sponde del fiume Testene e il canale di riuscellamento dalle plastiche e cartacce lasciate a terra e che spesso sono finite nel fiume per poi raggiungere il mare. Artefice dell'operazione Gerardo Scotti, cittadino e presidente dell'Associazione Genesi dell'Ambiente, da sempre impegnato sul territorio per salvaguardare l'ambiente. Abbiamo riempito 8 sacchi di rifiuti, sono state recuperate decine e decine di mascherine, sottolinea Gerardo, che oltre a rappresentare un serio pericolo per i pesci e uccelli, sono una fonte di inquinamento ambientale perché non biodegradabili e dunque resteranno lì per decine o centinaia di anni, con conseguenze che si ripercuoteranno su tutta la catena alimentare. Ringrazio il direttore della Sarim che non manca mai nel fornirci la sua collaborazione, conclude Gerardo Scotti. Ringrazio il direttore della Sarim.